Le idee che diventano progetti, i progetti che diventano imprese. Un percorso che oggi molti giovani possono intraprendere con l'assistenza di importanti enti come l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Dobbiamo capovolgere il paradigma normale che ha fatto sì che ognuno di noi quando ha seguito un percorso formativo abbia davanti un professore. Deve essere il ragazzo, il giovane talento, il genio che dice io ho bisogno di questo perché la mia conoscenza geniale è limitata a quella che è la mia intuizione. Però ho bisogno per sviluppare un'attività imprenditoriale di altre cose. Quelle altre cose devono essere fornite da un contesto territoriale, da un ambiente culturale, scientifico, fertile, che si metta a disposizione, che non insegni ma che sia lì ad ascoltare e quindi cercare di aiutare e accompagnare. Grazie. Parte così con la collaborazione dello IAMB, il secondo salone dello start-up e delle imprese creative. Dalla Fiera dell'Elevante di Bari per quattro giorni, tanti giovani avranno l'opportunità di confrontarsi e mettere a punto strategie per sviluppare nuove imprese così come hanno fatto Giuseo Tonelli e Nicola Scaporusso. Sono progetti che si domandano che tipo di impatto possono avere sulla società. Questo in tutto il resto d'Italia e anche come trendi si sta chiamando social innovation. A noi piace immaginarla come cominciare ad avere delle idee che vanno oltre l'idea di business, ma cercare con il business di poter modificare il territorio in cui viviamo. Assisteremo a un vero e proprio vivaio in cui 120 start-up e associazioni si presenteranno alla collettività e avranno l'opportunità soprattutto di conoscersi, di entrare in rete e di rafforzare il proprio percorso imprenditoriale. Questo è il valore più grande che il salone delle start-up può fornire a queste giovani idee, ovvero la possibilità di stare insieme, di condividere il proprio percorso e di migliorare, di crescere. Sulla base di questi incontri nasceranno anche nuovi programmi di accompagnamento e formazione sui quali non solo lo IAMB ma anche la Regione Puglia e la Camera di Comercio di Bari hanno deciso di investire. Nella giornata di sabato 21 settembre all'interno del salone dello start-up saranno presentate le idee vincenti dell'ultimo bando principi attivi della Regione Puglia, progetti che ora beneficeranno dei finanziamenti e che potranno diventare realtà, prevista per l'occasione anche la presenza del Presidente della Camera, Laura Boldrini. Aver scommesso sulla voglia di intrapresa da parte dei giovani, secondo me è stata l'intuizione giusta, per cui la politica non fa al posto dei giovani, chiede ai giovani di fare occupandosi ovviamente di creare le condizioni, di creare contesti fertili e la Puglia pian piano sta diventando un contesto fertile. Oltre alla Regione Puglia anche la Camera di Comercio da tempo ha scelto di investire sui giovani. In questi giorni verrà presentata la seconda edizione del concorso Valore Assoluto. Tutto un mondo che oggi si affaccia al lavoro, tutto il mondo dei giovani che cerca il lavoro, dobbiamo cercare di noi invece di fargli capire che il lavoro non si cerca, il lavoro si crea. Così hanno fatto i nostri nonni, così si è sempre fatto. Noi oggi purtroppo viviamo questa grande crisi perché probabilmente da un po' di decenni a questa parte questo concetto lo abbiamo trascurato. Grazie Grazie Grazie